Un saluto a tutti i campanari di Youtube, ci troviamo a Pella, questa è la chiesa parrocchiale, abbiamo un concerto di 5 campane che adesso ascolteremo a concerto suonato manuale e poi dalla cella nella distesa completa. La chiesa parrocchiale La chiesa parrocchiale La chiesa parrocchiale Grazie a tutti 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 Grazie a tutti